E' la volta di Paolo Allamandi con Gabriele Aglio, un altro equipaggio, under, giovanissimi. Allora, sono quarti nel trofeo Pirelli. Speriamo di fare una bella gara, prima volta che veniamo qua, belle strade. Da dove venite? Piemonte, Cuneo. Provincia Granda. Provincia Granda, sì. E quindi speriamo di fare una bella gara, di divertirci e di portare a casa qualche punto buono per il campionato e per il trofeo. Bene, la prova che preferisci ovviamente te la devo chiedere perché... Ottone. La prima. Ah, sconfiniamo in Emilia. Ciao ragazzi, Allamandi con Allio, equipaggio numero 75. Allio, equipaggio numero 76. Allio, equipaggio numero 76. Allio, equipaggio numero 77. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.